Ansia Che le parole che pronunciamo restino per sempre, per sempre. Fretta, che i nostri gesti si ricordino. Fretta, che i nostri pasti non si freddino. Che il nostro tempo sia il tempo migliore. Protagonisti, antagonisti, resisti, resisti. Resisti, resisti, resisti. Hai mai pensato al momento in cui non ci sarai? Hai mai sognato di essere davvero presente? Mentre si stringono intorno al tuo ruolo. Nel tentativo di essere loro. Protagonisti, antagonisti. Resisti, resisti, resisti. Resisti, resisti. Resisti, resisti. Resisti, resisti. Resisti, resisti. Non ci sarai? 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 Si promessi. Grazie a tutti.